e ciao ragazzi e ben... oh cavolo ma chi è questo personaggio? che babbo natale? ho sbagliato qualcosa secondo me e ciao ragazzi ben ritrovati in un nuovo appuntamento con wwe eccolo il nostro tigerman mamma mia che spavento all'improvviso mi sono visto babbo natale e non ho capito più nulla mio dio allora ragazzi siamo vicini alla NXT Rival dovremo speriamo affrontare film bello per la cintura però prima dobbiamo andare al superstar è un match che non possiamo togliere appunto contro Sami Zayn come sempre ragazzi vi faccio vedere solo i momenti qui o soltanto alla fine ovviamente boom ragazzi bellissimo scontro fino adesso con Sami Zayn ora abbiamo lui ha una special io ho una final ho una mossa finale vedete che posso utilizzarla però non so se usarla adesso perché secondo me riuscirebbe a cavarsela perché comunque un bel lottatore forte vedete resiste molto facilmente le mosse che gli faccio cavolo questa cos'è la sua special? si ahhh cavolo non sapevo che fosse così la sua special ora potrebbe o chiudere o farmi la final prova a chiudere vediamo uno due uuuu all'ultimo grande tigerman all'ultimo davvero eh stavolta Sami Zayn però te la becchi la nostra final mossa finale mossa finale eseguita eseguita andiamo a chiudere vediamo vediamo secondo me non ce la fa però due vediamo e no infatti però abbiamo il 93.2 potremmo arrivare a fargliene un'altra vediamo riusciamo a fargli la special esatto special eseguita ragazzi uno contro uno lui alla finale anche io ce l'ho ce l'ho anche io però lui è al tappeto adesso e noi abbiamo quella caricata abbiamo quella caricata attenzione dai tigerman chiudiamo questo incontro da quattro stelle eseguito andiamola a chiudere andiamola a chiudere però dobbiamo stare attenti perché è vicino alle corde stiamo attenti però eh vediamo uno due e tre abbiamo chiuso grande tigerman grande vittoria qui anche se si tratta di superstar e non di nxt bella vittoria contro un grandissimo grandissimo Sami Zayn siamo saliti anche di posizioni ora guardate siamo secondi bene 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 speriamo di battere adesso prossimamente Finn Balor ed eccoci siamo all'ultima settimana prima di nxt rival ah dobbiamo affrontare Kevin Owens una sfida da vincere a tutti i costi per sperare di andare in rivalità contro Finn Balor Tigerman vs Kevin Owens una sfida importante secondo me proprio per andare ad affrontare ad nxt e rival Finn Balor ora Kevin ti abbiamo battuto tutte le volte con cui ci siamo affrontati sei veramente ostico sei veramente bravo però siamo noi più forti dobbiamo dimostrarlo anche adesso maggiormente perché siamo ad nxt è inutile che ti arrabbi eh Kevin cavolo si è arrabbiato però ragazzi madonna che capata mucca che ti ha tirato mamma mia peccate sto pugno in faccia brutto mi ha tirato una capata peggio di Zidane ciao Kevin io me ne vado un po' fuori va andiamocene fuori voglio prendere un po' di armi per affrontarti vieni qui Kevin anzi no è mio oh era mio arbitro eh addirittura che mossa mamma mia con quel peso lì riesce a fare queste cose arbitro però mi ha tirato il martello addosso io te lo dico non sarebbe legale eh non sarebbe legalissima come cose no sulle scale no non sulle scale però quasi quasi ma cosa vuol fare mi vuole schienare fuori ma è cretino Kevin sei impazzito? te sei impazzito Kevin non si può schienare fuori dal ring stupido attenzione prova il tiro palo palo incredibile incredibile questo palo portiamo questo martellino sul ring va voilà però non scendere tu vieni qui che ti voglio sbattere sul martello fatto male al ginocchio per caso bam credibile la botta e poi bam alla Jean-Claude Van Damme bellissima questa mossa ragazzi l'adoro andiamo a chiudere anche se impossibile vediamo uno due e infatti e infatti non ti disperare Tiger Man è normale come cosa? no no mi fa la cannonball no mi fa la cannonball no Tiger Man no ecco mi sa che me la fa ecco porca miseria che botta una culata incredibile Tiger Man resisti? se mi fa la sua mossa finale è finita vediamo se riesco a resistere qui però aspettate uno uh neanche due grande Tiger Man attenzione prezzo di Tiger Man e anche mossa finale che non andrà a chiudere sicuramente però intanto gli diciamo stai giù a Kevin Owens e questa è una cosa molto importante basta replay devo vedere come far a togliere sto cavolo di replay ogni 3 secondi vediamo uno due dai no ultimo sforzo di Kevin Owens arrivano i messaggi porca miseria uh mossa di sottomissione mossa di sottomissione attenzione eh ma resiste resiste Kevin cavolo non sono ancora capace di fare una mossa di sottomissione poi siamo anche molto stanchi in realtà quando si è molto stanchi non si ha molta forza per farla la mossa uh proviamo a schienarlo così attenzione arbitro sveglia uno due eh ma arbitro era mezz'ora fa che era quel tre lì mezz'ora fa dai alzati Kevin alzati devo fare la mia mossa speciale che secondo me va a chiudere anzi ti alzo io vai contro le corde così sei pronto a fare una bella Tiger Bomb sei pronto per questa Tiger Bomb eseguita la perfezione mamma mia schieniamolo schieniamolo con la Tiger Bomb schieniamolo con la Tiger Bomb uno due no vabbè immortale Kevin Noves Immortale però adesso gli faccio una finale ed è impossibile che riesca ad alzare però veloce Tiger Man veloce così così no non l'ho preso uh con quale lentezza questi calci queste cose non gli sputare addosso prendilo che devi fargli la mossa finale così così è eseguita perfetto grande bel replay ovvio chiudilo 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 dai stavolta non si può alzare due mosse finali due mosse speciali che deve fare di più due vabbè io ci rinuncio ragazzi dopo questa ci rinuncio ah pure scommettete di chiudere lui adesso scommettete che la chiude guardate ragazzi guardate vediamo uh neanche uno neanche uno kevin neanche uno che c'è piangi adesso kevin piangi kevin ti faccio una nuova mossa bam ciao questo qua aveva due mosse finali questa qui è la mossa finale vero si eh ragazzi però non vale che cacchio di mossa è tra l'altro ma mi hanno ucciso ma non è la mossa finale non è la mossa finale però è una mossa incredibile mi ha fatto malissimo dove sta andando kevin cosa cosa volevi fare kevin dai che ti sottometto dai che ti sottometto dai che ti sottometto dai dai no ci sono quasi no si pareva che faceva la mossa finale adesso vabbè ovvio che vada a vincere lui ragazzi c'è troppo più forte troppo più forte niente non l'ho evitata vediamo se posso chiuderla adesso ma impossibile dopo questa mossa incredibile eh neanche mi fa vedere grazie arbitro incredibile incredibile la vendetta di tiger eh ma ce ne fa un'altra ma ce ne fa un'altra no ragazzi no vabbè no vabbè però sono contento di essere riuscito a a uscirne sono contento di essere riuscito a uscirne da quella di prima no vabbè no ragazzi incredibile no vabbè ragazzi incredibile non ci può credere Kevin Owens Immortale Tiger Man Immortale e gli fa la mossa speciale così no vabbè ragazzi sto sto impazzendo sto impazzendo se la chiude impazzisco se la chiude uno due tre no ragazzi una vittoria incredibile una vittoria che meriterebbe milioni di mi piace vi giuro è una roba pensate se fosse stato per la cintura questo incontro pazzesco Tiger Man pazzesco davvero incredibile vittoria qui su Kevin Owens se merita di esultare tantissimo il nostro Tiger Man e ovviamente ora siamo primi in graduatoria ora non possono non darci la possibilità di affrontare Finn Balor ragazzi Finn Balor e non posso neanche intervenire nel prossimo pay per view di NXT per la cintura non mi interessa oh dobbiamo affrontarlo prima superstar vabbè mi faccio vedere soltanto la parte finale però eh ragazzi perché sennò l'episodio dura troppo mi piacciono questi eh Finn Balor ti piacciono? questo è soltanto un assaggio è solo un assaggio per quello che avrai ad NXT Arrival perché mi vendicherò di tutti i torti che mai fa eh a parte adesso ogni volta che inizio a parlare così poi dopo si vendicano è assurda sta cosa allora Finn dopo tutte queste mosse che ti sto facendo stai capendo che a NXT Arrival ti massacrerò nel prossimo episodio? eh sì ragazzi perché ve lo farò vedere nel prossimo episodio l'incontro per arrivare alla cintura e ve lo faccio vedere tutto tra l'altro quindi sarà anche una bella chicca farvi vedere l'intero incontro per la cintura sperando di riuscire a vincerla tra l'altro ragazzi è addirittura rosso è addirittura arrivato a essere rosso proviamo a insistere sul sul braccio no però si si ribella c'è anche il comeback tra l'altro eccolo il comeback di Finn Balor attenzione dobbiamo stare attenti dobbiamo evitarlo dobbiamo evitarlo uh un evitato evitato addirittura guarda to mossa finale Finn mossa finale vediamo se riusciamo a chiudere chiudilo schiena oh che non va non andava ragazzi non andava il pulsante uno due niente eh però non andava il pulsante magari se fosse andato velocemente sarebbe riuscito a batterlo ma porca miseria facciamo sottomettere il campione dai facciamolo sottomettere dai forza no non ce l'abbiamo fatta devo allenarmi di più a cercare di la sottomissione però abbiamo la special eh uh bello questo dropkick abbiamo entrambi la special sia lui sia lui attenzione attenzione non facciamo non facciamocela fare ma mi sa che la farà no invece no ribellione ribellione abbiamo la final abbiamo la final abbiamo la final però non abbiamo l'energia per farla la final e ci mettiamo d'accordo qua tra i due cacchio mi ha fatto la finale no no tiger man non mi morire adesso ti prego no no occhio no no all'ultimo ancora all'ultimo lui ci deve far stare in pensiero tiger man però adesso mi sa che è pronto fin fin berlo mi sa che siamo pronti adesso te lo dico guarda ecco te la servite adesso non mi venire a dire però gioco che si alza ancora perché giuro che poi mi faccio squalificare giuro che mi faccio squalificare andiamo uno due no vabbè vieni qua fin ti faccio vedere una cosina aspetta basta io non ci sto via tutto qui scasso tutto non è possibile che questo qua si alzi non è possibile che si possa alzare dopo quella mossa vieni qua a te vai contro lì oh non è possibile bam bella nasata contro contro il tavolo e poi ti lancio pure contro ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando qui sette attenzione vediamo se riusciamo a tenerlo giù vediamo se riusciamo a tenerlo giù se gli facciamo la mossa adesso no lo sapevo bastardo eh vabbè vi faccio squalificare raga vi faccio squalificare raga bam è inutile mi ha rotto le scatole vince per squalifiche però è soltanto il primo passo verso la vittoria del titolo ok ragazzi ci siamo prossimo appuntamento appunto sarà ad nxt arrival contro fin bello per il titolo eccolo non è per il titolo si dovrebbe essere per il titolo perché se no non ha senso fare il pay per view appunto contro fin bello penso sia per il titolo comunque ragazzi nel caso sia per il titolo lo vedremo nel prossimo episodio grazie mille per aver visto questo video per aver visto questo straordinario incontro contro Kevin Owens del nostro Tiger Man un saluto e ciao da Papyrus